Proseguono gli interventi del primo lotto del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Via Reggio. Per consentire l'operatività dei cantieri, che vedranno impegnati circa 200 operatori di rete ferroviaria italiana, gruppo AFS italiane, e delle ditte appaltatrici impegnati con circa 100 mezzi nei diversi cantieri fissi e mobili, La circolazione dei treni tra Pistoia e Monte Catini Terme sarà sospesa da domenica 18 luglio a sabato 4 settembre. Lo rende noto rete ferroviaria italiana spiegando che tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus a via Autostrada 11, che non effettuerà fermate intermedie. Gli operatori di Trenitalia saranno presenti a Pistoia e Monte Catini per assistere le persone in viaggio. Nello specifico, i lavori di rete ferroviaria italiana durante l'interruzione consistono nella realizzazione del rilevato ferroviario in affiancamento all'attuale, dove sarà posizionato successivamente il binario del raddoppio delle barriere antirumore, oltre al rinnovo di parti del binario e della linea di alimentazione elettrica esistenti. Si inizierà il posizionamento del nuovo binario del raddoppio per circa 5 chilometri. Proseguiranno inoltre le opere propedeutiche all'eliminazione dei passaggi a livello, con la costruzione del nuovo sottopasso ciclopedonale in località Barile, nel comune di Pistoia, dello scavalco ferroviario per la viabilità stradale nel comune di Pieveanievole e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario in località Colonna, nel comune di Pieveanievole. Saranno infine eseguiti interventi nella stazione di Pistoia per predisporre l'impianto ferroviario alla connessione con il futuro doppio binario.